Nel rapporto di volume, adesso chi sa di chimica sa che a un certo punto si arriva a dire in maniera molto chiara che i volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole e esiste una relazione molto stretta tra la quantità quindi di molecole che ci sono in una certa misura di un gas e quella quantità che ho preso allora se io, come si accorge Alessandro Volta, per far reagire una certa misura di idrogeno ho bisogno di due misure di idrogeno la chimica ci dirà, ce lo dirà la chimica, che il risultato a livello atomico di questo tipo di reazione è che si legheranno due atomi di idrogeno con uno di ossigeno dando l'acqua questa cosa Alessandro Volta la osserva e nel suo audiometro riesce a dire soltanto alcune cose riesce soltanto a dire che quando dentro l'audiometro l'ossigeno e l'idrogeno, come diciamo oggi, l'area respirabile e l'aria respirabile metallica reagiscono, il volume diminuisce, sulle pareti si manifesta la presenza di un umore umido, in realtà è acqua, ma lui non se ne accorge e questo vapore nebuloso non c'è invece quella che veniva chiamata all'epoca aria fissa e che era poi, diciamo, l'antelucano della... di quello che poi si chiamiamo... nella primavera del 1782 Volta incontro a Lavoisier l'abbiamo nominato prima e che cosa fa con Lavoisier? noi non abbiamo un racconto diretto di che cosa fa Volta con Lavoisier però abbiamo una lettera scritta da questo chimico francese, d'Arsene il quale scrive ad Alessandro Volta dei lavori di Lavoisier Lavoisier pubblicherà un lavoro nel quale dirà che l'acqua, diversamente da quello che pensava Lavoisier era quello che pensavano tutti nel Settecento non è in realtà un elemento, ma è un composto l'esperienza mostrata da Alessandro Volta aveva acceso in Lavoisier la consapevolezza che l'acqua era stato il prodotto di quella reazione e che quindi l'acqua non era appunto quello che si chiama un elemento ma una sostanza bene, nella lettera di accompagnamento sempre d'Arsene dimostra, dichiara di sapere di sapere per bene che Lavoisier aveva fatto riferimento all'eudiometro di Volta e che nell'esperienza mostrata da Alessandro Volta era stato messo sulla strada per comprendere che l'acqua appunto non è un elemento primo ma è un composto questa cosa, attenzione, non può essere utilizzata per dire che Alessandro Volta in realtà avrebbe potuto essere chiamato la persona, il primo ad avere scoperto che l'acqua è un composto, per quale motivo? Alessandro Volta fu certamente uno dei primi che si interessò a questo tema ma attenzione, pur rivendicando la sua priorità in realtà lui non è d'accordo con Lavoisier cioè continua, malgrado i suoi lavori, malgrado i lavori di Lavoisier a ritenere che quella di Lavoisier sia un azzardo dal punto di vista scientifico sostiene che l'esperimento non prova non provi che la composizione e le composizioni dell'acqua in realtà lo aveva provato la composizione Lavoisier aveva fatto un altro lavoro anche sulle composizioni fosse provata e quindi insiste nella sua posizione perché questa sua posizione viene letta nella seconda riga in realtà contrasta con la teoria del progisto in questo senso è forse l'unica posizione voltiana conservatrice lui è un grande innovatore è la persona che offre lo strumento per mostrare che cosa è l'acqua ma in realtà è troppo convinto che la teoria del progisto non possa essere abbandonata e considera l'ipotesi della Lavoisier assolutamente azzardata e quindi non la sposa ho detto prima della chimica andiamo avanti e questo fatto che qui citiamo è notissimo il fatto che Alessandra Rodda per primo raccoglie un'aria sconosciuta e che si accorge di essere un'aria infiammabile e che chiama aria infiammabile nativa delle palubri lo scrive in una serie di lettere tra l'altro qui c'è sono una serie di riferimenti anche locali ma lì ci soppogliamo se non stiamo in tutta la serie io mi farò l'acqua per due giorni dalle misure con l'eudiometro però a volta si accorge che quest'aria infiammabile non è l'aria infiammabile metallica è un'altra cosa si ne accorge perché? sa che cosa si ne accorge? si ne accorge perché una misura di aria infiammabile nativa delle palubri brucia completamente con 8 o 10 misure di aria comune allora tu come fai a capire che quell'aria non è quell'altra? lo fai andando a utilizzare quell'eudiometro dicevo prima che questo diventerà lo strumento fondamentale dell'inizio della chimica di Yedars andando a vedere quali sono le quantità che sono necessarie qual è il rapporto tra le quantità che sono necessarie per ottenere una reazione completa qui è dato il dato della chimica moderna il metano oggi lo chiamiamo con la formula CH4 con due molecole di ossigeno ci dà CO2 e due molecole d'acqua e qui ovviamente non vi faccio fare i calcoli aritmetici ma dobbiamo anche ricordare che usando l'aria respirabile l'ossigeno è un quinto di tutta l'aria respirabile i quattro quinti sono un pazzo però se qui c'è qualcuno che sia di chimico ovviamente questa cosa da questi lavori lui arriva a fare alcune cosettine la più conosciuta è la famosa pistola noboconimatica questa è la pistola che c'è nel Piovontiano in realtà se osservate bene si tratta sostanzialmente di una adesso la formula più semplice è l'idea di un tubo con un ungello di apertura in questo caso un ungello di popolo con il quale aspirando come con una siringa si può aspirare una miscela di aria infiammabile metallica e di aria respirabile lui chiama questa roba miscelatorante lui aspira questa roba dopodiché al posto del pistone mettiamo un tappo e attraverso questo foro che lui chiama focone lui accende con un acciarino oppure con un solfanello come chiamano lui c'è un cordino inseguito di zolfo poi acceso infila la fiammella attizza la reazione e la reazione esplosiva fa partire il tappo questa pistola la chiama pistola flogopneumatica nel 1976 subito dopo la trasforma in una pistola elettrico flogopneumatica e cos'è la differenza? la differenza sta semplicemente nel fatto che l'innesco è dato da una scintilla che è provocata attraverso una scarica come vedete il cilindro metallico, il tappo che parte questo cilindro metallico ha un elemento che va a sfiorare la superficie opposta l'elemento è tenuto in mano la scarica va dall'elemento metallico alla carcassa che poi scende a terra attraverso lo sperimentatore e l'esplosione fa sparare questo oggetto questa è la pistola che c'è al tempio e quest'altra è un'altra pistola molto più semplice fatta semplicemente con un vaso di vetro con due punte che si inseriscono dai lati la scintilla viene dall'esplosione e il tappo che sta sopra a spare questo evento non ha mai avuto una, come dire, importanza come arma soltanto un'importanza come oggetto di tipo applicativo queste sono parole di volta lui dice pistola, schiopo, elettrico, aero, infiammabile o elettrico, fluoro, pneumatico se tal nome non dà fastidio e lo scrive e lo descrive in tra lettere del 77 questo foglio con un foglio autografo di volta presenta un disegno che vedete lì sotto che in realtà è un'idea volutiana mai realizzata però che fa capire in che direzione muove e mi immagina che sia possibile far sparare una sua pistola elettrica floco-pneumatica posta a Milano facendo trasferire il fluido elettrico in una scarica fatta a Como attraverso un conduttore mantenuto staccato isolato da terra con dei pali di legno quindi lui in realtà immagina immagina la possibilità che possa essere utilizzato un fluido elettrico per trasmettere un'informazione ovviamente queste non sono se non dei progetti delle idee ma invece è un oggetto assolutamente voltiano lo trovate al tempio il famoso accendilume qualcuno lo chiama lampara di volta è un accendilume in che senso è un accendilume? come si accende un lume nel settocento? voglio dire oggi se dobbiamo accendere una candela ce la capiamo con un piezo elettrico forse con un fiammifero, con un accendino ma come se accende una fiammella nel settocento? questo oggetto è fatto sostanzialmente con una clessidra nella parte inferiore, nel vaso inferiore si mette dell'alimentatura di ferro dei pezzettini di rame con un po' di gocce di acido basta il succo di limone si libera che cosa? si libera aria infiammabile metallica cioè il frugino nel superiore si mette dell'acqua volgarmente dell'acqua poi c'è un sistema di rubinetti quando voi aprite il rubinetto cosa fa l'acqua? l'acqua cade cade nel vaso inferiore quindi va a occupare dello spazio occupando dello spazio spinge il gas che c'è dentro a uscire e il gas che esce purisce attraverso un ugello che passa davanti a due punte se tra questi due punte mentre che esce il gas infiammabile io faccio scoccare la scintilla questo gas si accende questo è esattamente quello è malissimo quella figura bisogna vederlo qui se andate attenti la sua parte però vedete la figura della doppia camera qui sotto nella scatola che sta sotto ci sta installato un elettroforo quindi un sistema che è elettrizzato per strofinio in grado di trasmettere la carica e generare la scintilla questo oggetto è un oggetto vecchio un oggetto inventato non è soltanto qui viene descritto cosa succede è un oggetto poi replicato si trovano credo anche al liceo volto oggetti di questo qui invece questo riferimento è estremamente importante chi ha brevettato il motore a scopo il motore a scopo questo però in realtà non ha avuto grande successo perché qualcun altro poi arrivato dopo è riuscito ad avere più successo di loro ma in realtà Eugenio Barsanti e il suo giovane collega di Vicente Pucci Eugenio Barsanti è di Lucca scrive lo scrive che per immaginare questo motore a scoppio il punto di partenza è stato a pistola di voluto siamo nel 1853 in realtà poi qui c'è un problema di brevetti perché in realtà in Italia non esisteva ma qui c'è brevetti loro lo fanno in qualche modo registrare a Londra è uno sconquasso insomma una delle tante storie infelici del nostro paese qui c'è qualcuno che riesce a immaginare delle cose straordinariamente innovative poi c'è qualcun altro che se ne mangia il merito però la storia è esattamente questa Barsanti parte da volta parte da quella cosa che dicevamo prima parte dal fatto di essere in grado di accendere una reazione tra un'acqua infermabile e l'ossigeno all'interno di un vaso chiuso e questo diventa il principio del motore ma non basta allora abbiamo detto all'inizio della chiacchierata che dal punto di vista dei temi del calore e della temperatura sono gravissime confusione bisogna arrivare verso il 1830 e il 1840 per avere un'idea chiara simile a quella che abbiamo oggi di cos'è il calore e cos'è la temperatura e quello che ancora oggi nel sentito popolare ci siamo fuori confusione ma una cosa si sapeva si sapeva che il mercurio il mercurio si dilata in maniera uniforme con la temperatura perché? perché questo non è assolutamente vero per tutte le sostanze pensate all'acqua l'acqua non è affatto vero che si dilata in maniera uniforme con la temperatura adesso non ci stiamo a soffermare su come fanno a sopravvivere i pesci quando i laghi sono gerati allora su una base di questa cosa qui Volta si mette a fare delle ricerche e andare a studiare come varia il volume del gas allora in realtà non si dedica a tanti gas si dedica allo studio dell'aria e il lavoro che fa è quello di andare anche questo è un disegno a volpiano andare a vedere che cosa succede adesso questo disegno è abbastanza semplice Volta dice utilizziamo una vasca contenente olio di lino ben purgato ben purgato vuol dire che l'ho fatto bollire a qualche modo che sembra tutto un fattore che potrebbe essere all'interno metto dentro questo vaso contenente olio di lino un diciamo un bicchiere in questo caso è evidentemente un tubo capovolto che cosa succede l'aria rimane all'interno voi non riuscite vedere questi numeri forse sì però osservate che si parla 42 e 40 60 e 58 68 66 64 62 70 68 71 70 73 72 questi sono valori della temperatura misurati al termometro a un termometro che non misurava i gradi centigradi ma utilizzava i gradi del muro non so se qualcuno sa che all'epoca si era inventato questo termometro con lo zero alla temperatura di fusione dell'acqua e 80 gradi a temperatura di ebollizione bene sono tutti a degradare osservate questi valori sono a degradare cioè l'intelligenza di Alessandro Volta è quella di dire che se io metto il mio tubo contenente il mio liquido e scaldo cosa succede che il gas si dilata e se ne esce allora io devo partire da una condizione in cui il volume decresca questa cosa lui fa con questo apparato e con un altro che adesso qui non vi è rappresentato e riesce a ricavare una delle leggi prime del comportamento del gas e la descrive a Martino Maru sulla equabile dilattazione dell'aria per calore quest'oggi non lo potremmo dire così perché dovremmo dire dell'uniforme dilattazione dell'aria al variare della temperatura qui c'è evidente la confusione tra calore e temperatura come si fa ma il fare più qui riesce a calcolare il coefficiente di dilattazione dell'aria a pressione costante cioè se io scaldo l'aria l'aria cresce aumenta il suo volume in maniera uniforme al variare della temperatura cioè a parità di variazione della temperatura corrisponde la stessa pariazione del volume uniforme per tutti i variare della temperatura questa uniforme di natazione il rapporto tra la variazione di volume e la variazione di temperatura di quanto aumenti il tuo volume per ogni grado di temperatura questa cosa si chiama coefficiente di dilattazione lui riesce a calcolarlo e ottiene un 270 per ogni grado centigrado questo dato è un dato tradotto perché in realtà lui parla di un 216 per ogni grado romuro tradotto in 270 il valore oggi assolutamente nei libri di scienza è uno su 273 quindi voi capite bene che con gli strumenti che aveva a disposizione lui arrivare a uno su 270 adesso per dirla se avessi 270 270 centimetri cubi un millimetro diciamo un millimetro di un gas per ogni grado di temperatura aumenta di un millimetro cubo è chiaro cosa vuol dire un 270 se ho 270 centimetri cubi e aumento la temperatura di un grado il volume aumenta di un centimetro cubo un 270 ok questo valore lo calcola con i suoi dati e dimostra sperimentalmente sempre sperimentalmente che questa uniforme di radiazione non vale soltanto per l'aria ma anche per il vapore il vapore è un gas che esiste a una la dico in maniera semplice che esiste a una temperatura alla quale la sostanza esiste anche come liquido alla temperatura che viviamo noi l'acqua esiste come liquido e come gas il gas dell'acqua si chiama vapore perché esiste sia come liquido che come gas alla temperatura a cui parliamo se non pigliassimo l'ossigeno l'ossigeno è un gas in senso stretto perché alla temperatura in cui viviamo noi l'ossigeno esiste solo come gas e non esiste come liquido ok allora i lavori di volta come tutti i lavori scientifici hanno valore scientifico solo se sono universali cosa vuol dire universali che valgono qui e a Parigi oggi e domani per questo per quest'area che c'è qui e per l'area che è tu sono leggi della scienza quelle che sono universali allora è chiaro che se io lancio un'affermazione come questa qualcuno la mette alla prova chi la mette alla prova? che è un giovane fisico francese che viene incaricato di fare questo lavoro lui lo fa e non solo confermi il dato di volta che già questo è eccezionale ma si rende conto che tutti i gas tutti i gas si comportano esattamente come l'area e come il vapore come aveva osservato Alessandro Boste sui libri di fisica spesso c'è scritto la legge di Gay-Usa in realtà al convegno di fisica che è stato usato nel 27 che stiamo un po' celebrando il congresso dei fisici ha riconosciuto a volta la priorità della legge per un uniforme di dilatazione a pressione costante nell'aria e nel vapore e a Gay-Usa l'averla estesa a tutti i gas ma di più Boste si interessa del problema dei vapori attenzione il vapore è come dicevamo prima uno stato gassoso di una sostanza che a quella temperatura esiste anche come liquido allora se noi mettessimo in una stanza pensiamo a una piscina che è più semplice pensiamo a una piscina la piscina continuamente evapora se non ci sono sistemi di ventilazione se il sistema è chiuso a un certo punto si arriva a un equilibrio ragionando in termini moderni c'è qualche molecola d'acqua che spara fuori che evapora e c'è qualche molecola d'acqua che spara dentro e ritorna liquida ok nella situazione di equilibrio in cui tante molecole sparano fuori quante entrano dentro siamo nella condizione che si chiama di vapore saturo più di così non ce ne può stare perché per ognuna che esce c'è una che entra è chiaro che in questa condizione si raggiunge da un po' se voi lavate il pavimento per dire una banalità il pavimento si asciuga perché l'acqua diventa vapore e entra nella vostra stanza se voi siete in condizioni di saturazione quell'acqua non si asciugherà mai perché per ogni molecola d'acqua che sale c'è una che torna a terra è chiaro? volta si interessa dei vapori saturi e osserva che la tensione di vapore che è la pressione la pressione di quel gas in equilibrio con il suo liquido varia con la temperatura questo è abbastanza ragionevole se noi abbiamo un equilibrio a 20 gradi dentro un contenitore immaginate un vaso chiuso in equilibrio se aumentate la temperatura questo equilibrio si stabilisce una pressione maggiore bene di più rileva come la tensione di vapore questa pressione del vapore non dipenda non dipenda dalla presenza di aria o di altri elementi allora io questo ve l'ho riportato non ve lo sto a leggere ma sono scritti in rosso e in blu allora quello sopra sono le cose che scrive Bozza e quello che è scritto sotto è ciò che scrive Dalton che è l'inglese al quale sono attribuite il merito di aver individuato le leggi sulle tensioni del vapore in realtà è di tutto evidente che sono esattamente le stesse cose come possiamo leggere questa è un'altra è un'altra delle grandi cose fatte da Alessandro Bozza assolutamente mi sconosce che scrive a signora Andriani nel novembre del 95 torniamo un attimo indietro avevamo parlato all'inizio della teoria dell'induzione l'induzione elettrica è quel fenomeno per il quale un corpo carico nel quale ho messo un eccesso di flusso per effetto di questo sovraccarico e più attenzione la faccio vedere subito Volta parla di tensione e ne parla in che senso ne parla in senso pneumatico allora se io ho detto che esiste una naturale saturità del corpo c'è una condizione di equilibrio dentro la quale ci sta quella particolare quantità di fluido e io in qualche modo riesco ad aggiungere del fluido è come se cercassi di mettere dell'aria dentro un contenitore questo ha una spinta a uscire ha una tensione a uscire in senso pneumatico allora questa tensione del fluido elettrico a uscire la parola tensione è una parola di voluta usata per l'elettricità ed è una parola che oggi tutti utilizziamo parlando di alta tensione i cavi dell'alta tensione adesso dico i cavi dell'alta tensione perché non abbiamo a che fare con persone che trattano di elettrologia tutti i giorni ma la parola tensione è una parola moltiana bene a motivo di questa tensione uscire attraverso quella che abbiamo chiamato prima atmosfera elettrica questa tensione si fa sentire sui coppi vicini generando un'azione indiretta induttiva oggi la parola che troviamo sui testi di fisica è una parola più generale perché la troviamo anche in altri contesti è la parola potenziale con differenza di potenziale però la premessa è voltiana e qui è ciò che dice volta per le sue parole di noto con il termine tensione lo sforzo che fa ciascun punto del corpo elettrizzato per disfarsi della sua elettricità e comunicarla ad altri corpi nel quale sforzo corrispondono generalmente l'energia i segni di attrazione repulsione eccetera e particolarmente il grado a cui viene inteso l'elettrometro di che cosa stiamo parlando allora quello che vedete a destra è un elettroscopio a paglie di volta l'elettroscopio voi sapete che le forze repulsive si manifestano quando due oggetti hanno la stessa condizione elettrica o sono un sovrassato di entrambi di elettricità o sono entrambi in condizione di carenza di elettricità per usare il linguaggio allora Alessandro si prova prima a realizzare un elettroscopio tutto particolare utilizzando due paglie due paglie vuol dire due fili d'erba l'estate quando fila l'erba diventa molto lunga la tagliate vengono due filini secchi asciutti che sono in grado respingendosi e se sono interviati in un punto di divaricare in maniera molto chiara perché è questo perché lui si mette in mente e questo è l'altro capitolo che è necessario riuscire a rendere comparabili le misure che faccio io con le misure che fanno da un'altra parte o le misure che faccio con questo elettroscopio e le misure che fai con quell'altro il tema della comparabilità il tema della misura è un tema fondamentale per tutta la scienza perché altrimenti siamo nella qualità nel qualitativo tant'è vero che dice e che mai può farsi di buono se le cose non si riducono a gradi e misure ed è il primo davvero che pone seriamente il tema della misura in ambito elettrico e dice dell'elettrometro quello che veniva chiamato elettrometro a foglia di penne l'avete visto tutti nelle scuole perché è il dispositivo più semplice chi a scuola ha fatto un po' di esperienze di elettrostatica di solito si usa questo sistema con due foglioline d'oro molto leggere o addirittura di alluminio le quali divaricano in maniera particolarmente visibile molto molto sensibile però dice per tale ragione anziché elettrometro chiamato elettroscopio allora la parola che volta il tono non è elettrometro è elettroscopio mi serve per vedere che c'è l'elettricità ma io voglio sapere quanta c'è e voglio essere in grado di misurarla allora si propone addirittura di definire un'unità universale di tensione mediante attenzione questa è una questione che vediamo tra un attimo mediante una misura di grandezze geometriche meccaniche che non è una costa allora la prima cosa che fa è quella di prendere il suo elettroscopio se si vede la figura se non si vede di mettere una boccetta quadrata e di mettere faccio vedere la figura così se la riuscite a vedere e questa è un'immagine del tempio di mettere sulla bottiglia una scaletta graduata in maniera tale che sia possibile misurare l'angolo di divaricazione e ovviamente in maniera anche qui ovviamente anche un pochettino in Genova la misura dell'angolo certamente per quell'elettrometro è una misura della quantità di fluido elettrico che è andata lì sopra poi c'è il problema della comparabilità nel senso che due elettrometri saranno ovviamente molto diversi ma ovviamente se quella quantità genera questo tipo di divaricazioni su questo elettrometro e un'altra un pochettino diversa su quell'altra io ho un meccanismo per tradurre l'una nell'altra però ovviamente siamo alle premesse come ci si arriva dobbiamo fare un po' di strada perché un'altra cosa che fa Alessandro a volte è quella di dedicarsi alla capacità dei conduttori isolati cosa vuol dire alla capacità allora dicevamo prima se io metto del fluido elettrico dentro un corpo questo ha una tensione uscita